TG regione, una giornata dedicata al ricordo e alla riflessione sulle conquiste politiche, sociali, il diritto al voto e conquiste economiche del genere femminile. Risale alla tragedia accaduta nel 1908 che avrebbe avuto come protagoniste le operaie dell'industria tessile cotton di New York rimaste uccise da un terribile incendio. Per alcuni anni la giornata delle donne è stata celebrata in giorni diversi nei vari paesi del mondo, mentre l'8 marzo divenne la data più diffusa dopo la seconda conferenza internazionale delle donne comuniste. Nel 1921 a Mosca e alla decisione presa proprio in quella sede di istituire la giornata internazionale dell'operaia. In Italia nel 1946 due donne iscritte all'Unione Donne Italiane proposero di adottare il rametto di mimosa, pianta economica e spontanea come simbolo che ben rappresenta l'energia, la forza e la tenacia delle donne. Nel 1967 l'ONU ha riconosciuto l'8 marzo come giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle donne e per la pace internazionale. L'11 e 12 novembre migliaia di coperte in maglia e uncinetto copriranno Piazza Santa Croce a Firenze per dire no alla violenza sulle donne. L'iniziativa dal nome Viva Vittoria è stata presentata oggi a Firenze nella giornata internazionale della donna. Le coperte, create con i quadrati 50x50 cm, possono essere realizzate da chiunque e saranno oggetto di una raccolta fondi. L'intero ricavato sarà devoluto ad Artemisia Centro Antiviolenzia, poi l'Associazione Cattolica Internazionale a servizio della Giovane Firenze e a Nosotras Onlus. Sarà possibile consegnare i quadrati ai centri di raccolta oppure nei punti vendita Conad di Firenze e provincia entro il 10. C'è chi è fuggita da una guerra, chi da parenti violenti, chi non ha un lavoro ma figli da mantenere, c'è chi una famiglia non ce l'ha. Ma è l'8 marzo anche per loro, le donne che hanno trovato una casa e una mano tesa nelle strutture della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze. In tutto le donne ospitate nelle varie accoglienze residenziali della Fondazione e sono attualmente 337, di cui 247 adulte e 90 minorenni. Lasciamo la festa della donna. Un grosso albero è caduto ieri pomeriggio nel giardino della scuola primaria Vittorio Veneto Pestalozzi a Firenze. Nel crollo la pianta ha sfondato un tavolo di legno. Per fortuna quando si è verificato l'incidente non c'era nessuno nel giardino e quindi non ci sono stati feriti. Confezioni di psicofarmaci sono state scoperte nell'abitazione a Lucca dove ieri sera sono stati trovati morti una sessantenne e un uomo di 63 anni. Il rinvenimento delle scatole di farmaci ha portato agli inquirenti a non escludere tra le ipotesi sulle cause del decesso che possa anche essersi trattato di un doppio suicidio o di un omicidio suicidio. Ciò che invece gli inquirenti hanno scartato è l'eventuale intervento di terze persone così come non trova di scontro l'ipotesi di un decesso causato dal monosfido di carbonio. In passato avevano avuto una lite e lui, un 35enne tunisino, ha sfondato la porta d'ingresso e ha dato fuoco alla casa del suo vicino. È accaduto la scorsa notte a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Scarperia e hanno arrestato il 35enne tunisino che risulta residente nel Brindisino ma di fatto è un senza fissa dimora. È un operaio edile. Un uomo è morto questa mattina in seguito ad un incidente stradale avvenuto poco prima delle 10 sulla via provinciale Calcesana a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. La vittima aveva 51 anni, era residente a Ponte d'Era. La strada è rimasta chiusa al traffico per oltre un'ora per permettere le operazioni di soccorso. Sembra che l'automobilista abbia perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un albero lungo la carreggiata, senza però coinvolgere altri. La Procura di Firenze ha riaperto il fascicolo relativo alla morte della 19enne Sara Scimmi che fu trovata morta il 9 settembre 2017 a Castelfiorentino, provincia di Firenze, paese dove abitava ai bordi della strada regionale 429, con segni di investimento da parte di un mezzo pesante. Lo fanno sapere il legale della famiglia Scimmi, Antonio Gugliel-Minelli, e M-Team, la società di consulenza statunitense, che sta aiutando i genitori e la sorella della ragazza scomparsa a reperire ulteriori prove di un caso ancora irrisolto. Il GIP avrebbe preso nota di nuove prove presentate dal team legale della famiglia Scimmi. La sindaca di Massarosa, provincia di Lucca, Simona Barsotti, ha scritto urgentemente a poste italiane per avere chiarimenti e tempi certi di riapertura dopo le chiusure avvenute in pochi giorni dell'ufficio postale di Stiava, a seguito dell'atto vandalico che lo ha colpito, ma anche di quello di Massarosa per problemi strutturali. Le due chiusure avvenute nello stesso momento lasciano oltre 10.000 cittadini senza un servizio importante ed è inaccettabile, commenta la sindaca, che si è resa disponibile anche ad un incontro per portare le esigenze dei cittadini e i forti disagi dalla privazione del servizio all'attenzione di poste italiane. È morto a 96 anni Aldo Dini, l'ultimo sopravvissuto della strage nazista del 4 luglio 1944 nel comune di Cavriglia, provincia di Arezzo. Segnato dal ricordo, Dini ha raccontato quei terribili momenti vissuti a centinaia di ragazzi delle scuole per tantissimi anni. E ora le previsioni del tempo per domani in Toscana, parzialmente nuvoloso, possibili piogge fino alla tarda mattinata, schiarite nelle ore centrali della giornata. Venti deboli, mari trammossi e molto mossi e infine le temperature in ulteriore aumento con massime fino anche a 19 gradi in pianura. È tutto per questa sera, arrivederci!